Come sono poi i grandi artisti, no? Bene, adesso noi facciamo largo e spazio, la jazz band si gira, se ci riesce, e loro andranno dietro come succede a New Orleans, a tempo di musica arriveranno alla stella di Miles Davis perché la forza evocativa della musica riesce a mettere insieme un grandissimo del jazz a un grandissimo di questa città. Musica! L'applauso è gradito! Dato che loro arrivano vi racconto che cosa succede stasera, subito alle 7 in Piazza Renzo, concerto degli amici di Alberto con Marco Tamburini, Checo Coniglio, un gruppo di italiani eccezionali, poi alle 9 e un quarto, 21 e 15, in Piazza Renzo.